Una festa celebrata in tutto il mondo cristiano, ma soprattutto dai francescani. Il 12 e 13 giugno, la custodia di Terra Santa celebra la festa del suo patrono, Sant'Antonio da Padova. Nel convento francescano di Gerusalemme sono due giorni di grandi celebrazioni. La sera del 12 giugno, assieme a tutta la Chiesa, i francescani hanno celebrato i secondi vespri della solennità della Santissima Trinità e al tempo stesso i vespri della solennità di Sant'Antonio. La preghiera è stata presieduta da Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa, che ha ricordato come il nostro patrono riflette spesso, nei suoi sermoni, sul mistero della Trinità. Ci guida a scoprire come il Dio Uno e Trino sia l'origine, la forma e la meta di tutta la creazione. Al termine della preghiera, la distribuzione del pane di Sant'Antonio, il pane dei poveri, una tradizione ancora oggi molto sentita, che ebbe inizio con un miracolo operato da Sant'Antonio che vide protagonista un bambino. «Il mondo è pieno dei miracoli che si ottengono per intercessione di Sant'Antonio», diceva Papa Pio XI. Il 13 giugno, il custode ha presieduto la messa nella Chiesa di San Salvatore. Presenti alla celebrazione, sua Beatitudine Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, e i rappresentanti delle Chiese di Gerusalemme, oltre alle autorità civili. Nelle parole del custode di Terra Santa riecheggiano alcuni episodi della vita del santo, che ne mettono in luce la figura di testimone e annunciatori di pace. Antonio appartiene alla prima generazione di frati minori, quelli che avevano potuto conoscere di persona San Francesco d'Assisi, e da lui avevano attinto una forma di vita cristiana radicalmente evangelica. Antonio cercò di portare pace soprattutto dentro le città e dentro le famiglie, specialmente nei casi frequenti di violenza domestica, fino a quello che oggi si chiama femminicidio. Passando dalla biografia di Sant'Antonio ai sermoni, che contengono anche i temi della sua predicazione, la parola pace risulta essere una delle più pronunciate, ricorre ben 266 volte. Sant'Antonio è prima di tutto un testimone, nel senso che lui mette in gioco la sua vita per annunciare il Vangelo. Oggi evidenziavo soprattutto per testimoniare la pace in un contesto che era un contesto molto difficile, perché i conflitti durante il Medioevo erano molto frequenti, poi certamente Antonio è anche un grande predicatore, noi lo ricordiamo come un grande predicatore, anche un grande insegnante di teologia, e anche lì oggi ho evidenziato il tema della pace, ma Antonio ha una predicazione che è a 360 gradi, i suoi sermoni contengono migliaia e migliaia di citazioni della Sacra Scrittura, al punto che Papa Gregorio IX lo chiamò l'arca del Testamento, cioè quello che custodiva e conteneva le Sacre Scritture. Poi Sant'Antonio è caro un po' a tutto il mondo, sappiamo che è nato, per così dire, portoghese a Lisbona, poi è diventato italiano d'adozione a Padova, ma in realtà Antonio, come ogni santo, appartiene a tutto il mondo. Io appartengo a una fraternità, a Brieff la Gallard, è un posto dove Sant'Antonio è venuto nel 1226, l'estate di quest'anno, dove pensiamo che è lì che ha appreso la morte di San Francesco. Sant'Antonio è rimasto lì qualche tempo e ci ha lasciato una bella testimonianza della predicazione, ma anche del dialogo come una via per restabilire anche la pace. Ogni 13 giugno, la Festa del Santo, nel Convento Francescano di Gerusalemme, è un giorno di grandi celebrazioni, anche per ricordare il lungo cammino percorso dalla custodia stessa. Quindi noi speriamo, ecco, di essere, come dire, anche con l'intercessione di Sant'Antonio capaci non tanto di parlare, quanto piuttosto di testimoniare il nostro amore per Cristo, il nostro amore per la Terra Santa, che è il Quinto Vangelo, il nostro amore per la gente che vive qui, e direi in questo contesto anche che ci renda capaci di vivere un impegno serio per la pace. I francescani sono presenti in Terra Santa da più di 800 anni. Fino dall'inizio sono stati una comunità internazionale. In questo momento la custodia di Terra Santa conta 300 missionari di 64 nazionalità, 80 santuari, 25 parrocchie, 18 scuole e un gran numero di opere sociali. a Grazie a tutti.